Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata di Biennale Tecnologia. Oggi parliamo di strutture. Io sono Matteo Robiglio e non sono uno strutturista, quindi in qualche regia occulta ho deciso perché per presentare invece un grande strutturista come Raimondo Betti ci volesse un architetto e probabilmente legato a mantenere una natura divulgativa, Biennale Tecnologia e quindi essendo gli architetti notoriamente ignoranti ma capaci di parlare di tutto, mi hanno ritenuto indegnamente degno di presentarvi Raimondo. Lo farò molto brevemente limitando la introduzione a una semplice collocazione di Raimondo per poi lasciare spazio alla sua lecture che tocca temi estremamente interessanti perché ha a che fare con un principio che quando io ero nei vostri banchi ma anche quando i colleghi strutturisti erano nei vostri banchi credo non ne parlassimo di fragilità, cioè noi eravamo al massimo abituati a celebrare la solidità di quello che facevamo e non ad aspettarci che fattori a volte addirittura e ne parleremo magari dopo non intrinseci all'infrastruttura, all'oggetto, potessero metterne in crisi l'esercizio ma soprattutto mettendone in crisi l'esercizio e forse su questo dopo potremo tornare nella discussione, mettere in crisi il sistema territoriale, l'ecosistema insediativo economico e sociale che l'infrastruttura serve. E Manhattan è un caso strepitoso di questo perché è un straordinario luogo di addensamento, pensate che è tuttora uno dei tre o quattro luoghi al mondo con la più alta densità urbana, la più alta densità economica, pensate che era fino alla metà degli anni settanta la quarta città produttiva degli Stati Uniti, manufatturiera, light manufacturing, ma manufatturiera, quindi quando andate a New York era una città industriale. Il Raimondo è romano, italiano, compie i suoi studi alla Sapienza, in ingegnere civile e poi vince un PhD a terra a Princeton, quindi traversa l'oceano, cosa che credo abbia per voi, in particolare per gli studenti che sono in sala, la grande lezione che cerchiamo sempre di ripetervi, il mondo è grande e ovunque fiorisca il tuo talento è bene, è bene per l'alma mater che ti ha prodotto, è bene per quella che ti accoglie ed è bene per la comunità scientifica cui apporti i contributi. Raimondo all'epoca probabilmente non c'erano i programmi di rientro dei cervelli, per cui il cervello di Raimondo ha messo radici, li ha messe non a Princeton. Diciamo così, sì, è vero. Beh, era molto meno welcome in back il nostro paese di quanto non sia adesso, adesso saresti corteggiato, vuole mica unire il professor Betti, ritorni tra noi. Adesso all'epoca in effetti parliamo di un altro paese, insomma siamo quasi coetanei o qualche anno meno di Raimondo, ma le occasioni offerte di crescita in particolare ai settori ad alta intensità tecnologica non sono state sempre quelle che voi fortunatamente avete adesso in luoghi come il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e soprattutto era un mondo molto meno networking, quindi andare significava proprio andare. Non c'era internet. Non c'era, ecco banalmente, io ho mandato la prima email, mi sono laureato nel 92, penso di aver mandato la prima email nel 94, prima erano i fax, c'era una migliavigliosa tecnologia che voi non avete vista, piaceva molto a noi architetti perché si disegnava e poi si mandava il disegno in cantiere. Raimondo poi da Princeton va a Columbia, a Columbia come assistant professor, poi fa tutta la tenure track full professor, direttore di dipartimento e quindi di fatto rappresenta, rappresenta io credo anche una continuità però della presenza dell'ingegneria strutturale all'interno della cultura dell'ingegneria americana che è molto importante, cito solo due nomi, il nome di Salvadori che tuttora io considero il punto d'ingresso almeno per noi architetti più interessante alle strutture, la sua capacità di fare comprendere il meccanismo resistente attraverso l'analogia del corpo con esempi semplici e tuttora di grande ispirazione per chi ripeto come noi architetti non deve arrivare alla prodezza del calcolo ma deve capire però come funzionano le cose nei loro principi meccanici di base e poi ricordo anche Pierluigi Nervi che tuttora ha una striscia di followers molto più densa negli Stati Uniti. Se noi abbiamo riacceso la luce sugli edifici straordinari della legacy di Nervi a Torino che probabilmente è la città che ha la più consistente legacy di Pierluigi Nervi lo dobbiamo alla Getty Foundation cioè è dovuto venire qualcuno dall'altra parte dell'oceano per dire hey Torino fai attenzione a che cos'hai e Politecnico ha raccolto questa sfida, l'ha raccolta attraverso studi, non era arrivato in quel momento Getty è stato il catalizzatore, il propulsore di una lunga storia di studi storico-ingegneristici su Nervi ma per dire che c'è un'attenzione importante in particolare in questo settore oltreoceano alla cultura italiana e alla capacità straordinaria di progettazione della cultura italiana. Non vi faccio perdere altro tempo perché siete venuti ad ascoltare Raimondo e non Matteo, Raimondo parlerà circa tre quarti d'ora quindi sarà una lecture dopo la quale ci piacerebbe molto, avremo ancora una mezz'oretta prima del cambio di scena e l'entrata in sala della prossima squadra di speakers, ci piacerebbe molto nello spirito di Biennale che queste fossero lecture di discussione quindi sia i colleghi presenti in sala, che gli studenti, che il pubblico, spero ci sia anche qualcuno che non faccio alzate le mani perché sennò poi magari scopriamo che siamo tutti già politecnici ma vedo anche delle facce non tutte note, quindi immagino che ci sia anche qualcuno che è venuto per curiosità, lo spirito non è di fare una lecture accademica ma di porre delle questioni e quindi le domande sono benvenute. The floor is yours, Raimondo, benvenuto. Grazie, grazie Matteo, veramente un'introduzione unica, mi ha fatto grandissimo piacere avere il mio nome a fianco a Pierluigi Nervi e Mario Salvatori, io non sono neanche un'ombra di questi due giganti, ho avuto l'opportunità di conoscere Mario Salvatori, quello sì, persona interessantissima, lui si freggiava di avere tre diplomi, ingegneria, architettura e matematica. La furbizia di Salvatori è che se parlava con gli ingegneri diceva che lui era un architetto o un matematico, se parlava con gli architetti diceva che lui era un ingegnere o un matematico. Quindi non riuscivano mai a pinpoint, a fermarlo su quello che veramente era, ma era veramente una persona geniale. Ringrazio prima di tutto Matteo per questa introduzione, ringrazio il Politecnico per avermi invitato, è un piacere essere qui, ho molti legami con il Politecnico, lavoro con il Politecnico, ho avuto studenti del Politecnico a Columbia, quindi è veramente un grandissimo piacere essere qui ed è un piacere parlarvi dei ponti di New York, che sono delle strutture speciali sia per New York ma penso anche un po' per tutta l'ingegneria strutturale, ingegneria mondiale su queste cose qui. New York vive con i ponti, i ponti sono una parte essenziale di New York, senza questi ponti New York sarebbe in crisi, pensate che se si dovesse chiudere una corsia di qualche ponte per qualche motivo il traffico va in tilt, bisogna avvertire mesi prima che si faranno dei lavori su un ponte specifico, è per deviare il traffico, quindi questi ponti fanno parte proprio della figura di New York. Ma poi fanno parte anche della cultura un po' americana. Quanti di voi avete mangiato Brooklyn, la gomma del ponte, quella è il ponte di Brooklyn, questo qui, questo ponte qui, questo è il ponte di Brooklyn, il più vecchio ponte di New York, 140, quasi 140 anni. Per noi che abitiamo, io vivo in New Jersey, che è questo, e noi per andare in quello che i new yorkesi considerano il centro del mondo, che è New York, noi dobbiamo prendere o un ponte o un tunnel, e allora siamo identificati come bridge and tunnel people, perché abitiamo nei soborghi, per andare nel centro del mondo abbiamo bisogno di un ponte o di un tunnel. Per andare nel ponte, per andare nel ponte dal New Jersey a Manhattan c'è il George Washington Bridge, questo qui, George Washington Bridge, aperto nel 1931, è il ponte più trafficato al mondo, più di 350 mila veicoli al giorno passano il George Washington Bridge e ognuno paga almeno 16 dollari. Quindi voi immaginatevi i soldi che fa il portautori di New York e New New Jersey, solo in tariffe per attraversare quel ponte. È un ponte che ha sette corsie per ogni senso di marcia ed è un ponte che quando fu costruito, questo asterisco che vedete qui, indica che a quel tempo era il ponte più lungo del mondo. Quindi come vedete questi sono tutti i ponti nella zona di New York e questi ponti quindi quando sono stati costruiti rappresentavano proprio lo stato dell'arte e parecchie conoscenze, non è che ci fossero tante conoscenze a quel tempo per cui erano proprio quasi un trial and error, provare, vediamo se c'è qualcosa che funziona o c'è qualcosa che non funziona e lo cambio dopo. Quindi questi ponti rappresentano veramente delle strutture importantissime e delle strutture delle quali bisogna assolutamente tener conto che devono essere mantenute in servizio costantemente, quindi la manutenzione di queste strutture è essenziale. Ve ne parlo in dettaglio di uno, giusto per darvi un po' di storia. Il ponte di Brooklyn, il più vecchio, considerate per gli Stati Uniti in 1883, è storia, ha 140 anni, aperto nel 1983, oggi viene attraversato da circa 120.000 veicoli al giorno e collega Manhattan con Brooklyn. Questo ha una storia interessantissima perché fu costruito dall'architetto, un ingegnere che lo fece, non era un ingegnere, era John Roebling, un emigrato tedesco che venne in Pensilvania, aveva delle idee un po' strane, fondò una città che si chiamava Utopia in Pensilvania, si curava solamente con l'acqua, non prendeva medicina, qualsiasi cosa si curava con l'acqua e questo poi alla fine gli fu fatale. Lavorò per tanti anni a cercare di fare questo ponte, di convincere l'amministrazione di New York a fare questo ponte. Siccome non era mai stato costruito un ponte così lungo e con queste tecniche di costruzione dei cavi per esempio, che poi sarà il punto focale della mia discussione, e quindi il governatore di New York, il presidente degli Stati Uniti eccetera, non erano molto propensi a dare l'ok, a spendere tutti questi soldi per fare il ponte. Un po' come il ponte di Messina, un po' come il ponte di Messina, c'è sempre questa, quindi è andato avanti per tanti anni a fare questa lobby del ponte di Bruelling. Alla fine gli diedero l'ok e fu così che lui una settimana dopo che aveva ricevuto l'ok per costruire, stava vedendo dove mettere la torre dal lato di Bruelling, a quel tempo i collegamenti erano attraverso il battello tra Manhattan e Bruelling e fu che i battelli arrivavano a dei moli in pietra e per proteggere l'impatto del battello sul molo c'era una protezione in legno, però c'erano qualche centimetro di distanza. Lui stava vedendo dove mettere questa torre e quindi il suo piede era nello spazio tra il molo e la protezione in legno, arrivò il battello, colpì la protezione in legno e il suo piede rimase schiacciato, quindi gli dovete amputare il pollice. Però siccome si curava solamente con l'acqua, lui si fece l'unica medicina che prese, praticamente aveva un rivolo di acqua costante sulla ferita e questo gli portò il tetano e morì un mese dopo. Allora gli successe il figlio, Washington Roebling. Washington Roebling, le incominciarono a lavorare e a quel tempo le fondazioni dei ponti non erano fatte come si fanno oggi, era come ripeto un trial and error. Per esempio il George Washington Bridge, anche lì quando scavarono le fondazioni, fu il primo che aveva le fondazioni scavate con, si facevano delle paratie, toglievano l'acqua e poi cominciavano a scavare. Questi ponti invece, questo ponte di Brooklyn era fatto che facevano prima un cassone di legno, poi scavavano sotto, quindi questo cassone di legno si appoggiava sul fondo marino che è abbastanza sciallo e poi incominciavano a scavare sotto e poi mettevano delle pietre e quindi il cassone scendeva e poi scavavano e mettevano altre pietre e il cassone scendeva e quindi con questo modo arrivavano. Però quindi quando si arrivavano a una certa profondità i laboratori che venivano su, questo non era pressurizzato e quindi parecchi soffrivano l'embolia e fu così che Washington Roebling si beccò l'embolia e quindi rimase paralizzato. Rimase paralizzato però aveva la capacità di intendere e volere e dal suo letto della casa di Brooklyn mandava la moglie tutti i giorni a portare le indicazioni in cantiere su cosa fare agli operai e quindi alla fine riuscirono a finire il ponte e fu quando lo aprirono la moglie spinse Washington Roebling con la sua carrozzella attraverso il ponte di Brooklyn. Il ponte di Brooklyn comunque siccome ripeto era una cosa che non era stata mai fatta, gli ingegneri ci andavano molto, gli ingegneri, chi l'aveva ideato Roebling ci andava molto cauto sul cosa fare e se vedete bene questo ponte, adesso partiamo un po' di ingegneria, aveva tre sistemi che portano i carichi, uno che è il sistema, questo dei cavi principali, questi cavi qui, questo funziona come ponte sospeso, poi ci sono questi cavi che vedete che sono inclinati, questi sono degli stralli e poi c'è questo, l'impalcato che è una traverticolare, quindi ha tre sistemi statici che portano i carichi ed era stato ideato con l'idea che se uno di questi sistemi fosse crollato, fosse finito, gli altri due sarebbero stati in grado di portare almeno il peso della struttura, quindi non sarebbe crollato e la gente sarebbe potuta uscire dal ponte, quindi aveva un fattore di sicurezza molto alto, cosa che oggi è impossibile pensare, perché? Per via dei costi, quindi questo sistema ha fatto sì che i cavi e tutti i materiali lavorassero a degli sforzi bassi, non alti. Questo ponte poi fu aperto il 24 maggio, il 31 maggio, il 30 maggio ci fu allora una festa, andiamo tutti sul ponte, andiamo tutti sul ponte, però essendo un ponte che la gente non aveva mai sperimentato, questo ponte si muove un pochetto, quindi la gente era un po', si preoccupava un po' del movimento di questo ponte, inusuale per quel tempo. E fu così che una signora scendendo le scale per una delle rampe, si inciampò, cadde, la sua amica che gli stava vicino strillò e ci fu uno stampede, una ressa e 12 persone morirono e 35 furono ferite, al che tutti fermi, il ponte non è tranquillo, non ci andiamo, non è safe, non è sicuro perché questo qui si muove troppo, per convincere i cittadini che invece il ponte era tranquillo, la città di New York, quello che fece, chiese al circo Barnum di far passare 21 elefanti sul ponte e così la gente si rassicurò e dice, ah, quindi il ponte può portare 21 elefanti e quindi è una cosa tranquilla da fare. E quindi ha ripreso e è diventato adesso il punto focale. Però a quel tempo, durante gli anni ci sono stati momenti buoni dell'economia e momenti non proprio buoni dell'economia, quindi la manutenzione ha incominciato un po' ad andare, a fare un po', mancava qualcosa in termini di manutenzione e originalmente la città di New York si pensava, o la città di New York o parecchie organizzazioni incaricate a mantenere questi ponti, pensavano non ci preoccupiamo troppo della manutenzione ma quando il ponte sarà necessario lo rimpiazzeremo. Ovviamente rimpiazzare il ponte di Brooklyn non è una cosa semplice, anche per il valore storico adesso. Quindi però la manutenzione non si faceva molto e fu così che nell'81 due degli stralli si ruppero a seguito della corrosione e come vedete questo è l'impalcato pedonale, questo qui, questo è l'impalcato pedonale, vedete che è tutto completamente tagliato e questo è uno dello strallo. Questo strallo quando si è rotto, quello che ha fatto è tagliato, è venuto giù tutto a un tratto ed ha trinciato in due il percorso pedonale e un turista giapponese fu ucciso, fu decapitato proprio da questo cavo che gli arrivò tutto ad un tratto. Quindi ci sono stati dopo tante operazioni di manutenzione, di riabilitazione. Questo è giusto uno scorso di progetti che sono stati fatti dal 1998 al 2019 e come vedete sono parecchi soldi, ogni progetto si aggira sui 37, 40 milioni, 45 milioni, 650 milioni. Sapete che cosa, perché così tanto? Quello è per la verniciatura del ponte e perché? Perché questi sono ponti che erano stati fatti in quel tempo dove c'erano le vernici con il piombo, vernici a piombo, quindi non si potevano praticamente pulire la vernice e lasciarla cadere nel fiume perché sarebbe stato un disastro ambientale e quindi questi ponti qui quando si devono pitturare devono essere praticamente incartati completamente e deve essere, si deve creare una pressione negativa all'interno per cui qualsiasi polvere caso mai entra dentro ma non esce fuori dal ponte, quindi è un'operazione molto molto costosa, ecco perché si arrivano a dei prezzi così alti. Questo per il ponte di Brooklyn, adesso passiamo ad un altro ponte, il Williamsburg Bridge che è il secondo ponte, questo è l'ultimo ponte che vi faccio vedere così che vi racconto di questo. Il Williamsburg Bridge è il secondo ponte più vecchio di New York, anche questo il ponte più lungo del mondo quando fu costruito, comunque è solo una questione di un centinaio di metri ma neanche più lungo del Brooklyn Bridge, non un centinaio, anche meno del Brooklyn Bridge, comunque in teoria è il ponte più lungo del mondo. Comunque questo ha uno schema differente dal Brooklyn Bridge perché ha questi cavi principali che vedete qui, questi cavi qui, che portano il peso di questo impalcato, mentre quest'altro impalcato, vedete non ci sono i cavi verticali che portano il carico da qui sul cavo, perché questi tratti, quelli che si chiamano span laterali, sono appoggiati su questi supporti. Quindi funziona un po' differentemente da come era il ponte di Brooklyn, non ha gli stralli per esempio. Questo ponte però fu fatto, siccome non si sapeva, ripeto, ancora tutto era all'inizio, bisognava capire cosa fare, i cavi principali sono formati, tutti i ponti così ce li hanno formati da dei cavetti molto piccoli in acciaio. Di solito, cioè Roebling, il suo primo ponte di Brooklyn, li aveva fatto con dei cavetti zincati, li aveva capito, ci saranno problemi di corrosione in futuro. Quindi proteggiamo i fili con uno strato di zinco, che nel caso c'è corrosione lo zinco si sacrifica, si corrode, però l'acciaio no, fino a che c'è la protezione dello zinco. Quando non c'è la protezione dello zinco, la corrosione attacca direttamente l'acciaio. E questo invece non ce l'aveva, questo non aveva questa protezione, è l'unico dei dieci ponti di New York che è fatto senza questa protezione. Quindi sono cavi in acciaio, però praticamente sono nudi, sono solamente questi cavi in acciaio. E da questo ponte tutto è iniziato, tutto è iniziato da lì. Iniziato cosa? Tutta questa frenesia che c'è stata nel definire quella che è la resistenza che è rimasta in questi cavi. Perché quello che decisero di fare, considerate ecco questi quattro cavi, ognuno ha un diametro di circa 50 centimetri, 45 centimetri, ogni cavo, ogni cavo questo qui, è fatto da 7.696 cavetti, fili di acciaio di 5 millimetri di diametro. E questi fili, se io ne metto uno attaccato all'altro, la lunghezza è 28.000 chilometri, 17.500 miglia. Il ponte in Giappone, che fino a un paio di mesi fa era il più lungo del mondo, se io metto insieme tutti i fili, sono 300.000 chilometri, quindi tre quarti della distanza da qui alla Luna. E questi fili sono tutti compattati insieme, poi vi faccio vedere, ho un video dove vi faccio vedere come sono costruiti, comunque sono tutti quanti compattati. E negli anni Ottanta decisero di vedere le condizioni di questi cavi. Quindi per la prima volta fu il primo esperimento che si aprirono questi i capi si cominciarono a vedere quello che c'era dentro. E quando aprirono il risultato fu che il giorno dopo uscì il New York Post dicendo chiuso, chiuso, forse per sempre, forse per sempre. Crumbling Williams or Britshats, crumbling che si sta sgretolando, che si sta e due miei colleghi a quel tempo salvarono questo ponte. Salvarono questo ponte come? Prima di tutto introdussero, perché a questo punto le conoscenze erano migliori di quelle che erano le conoscenze di una volta e quindi incominciarono a introdurre dentro il modo di calcolare la resistenza rimasta? La teoria della probabilità. Se il cavo si rompe in un punto non necessariamente questo cavo perde la resistenza per tutta la sua lunghezza. Perché? Perché ci sarà l'attrito tra questi cavi e dopo un po' riprende la resistenza. Poi la distribuzione, poi se prendo che questo cavo ha questa resistenza, non necessariamente tutti i cavi hanno questa resistenza minima. C'è una certa distribuzione e quindi salvarono questo ponte da un punto di vista numerico. Ma sapete come l'hanno salvato da un punto di vista pratico? Sapete cosa hanno fatto? E questa è poi una tecnica che si è usata per tanto tempo. Adesso non più, ma per tanto tempo ci si metteva l'olio di semi di lino dentro i cavi. Ossia questi cavi che sono queste dimensioni, in cima alle torri venivano aperti e poi gli si buttavano dentro migliaia e migliaia galloni di olio di semi di lino. Qual era l'idea? L'idea era che questo olio si diffondesse attraverso questi cavi e coprisse i cavi. Coprisse i cavi e quindi coprendo questi cavi impedisce all'ossigeno di entrare e sviluppare la corrosione. Quindi c'è stato l'insido, olio di semi di lino, olio di pesce. C'è di tutto, c'è di tutto lì dentro. E questo con degli anni. E poi adesso dopo questo vi serva per tenetelo in mente questo, perché dopo alla fine vi faccio vedere qual è il metodo moderno per rallentare la corrosione, che è, non ve lo anticipo però poi ve lo faccio vedere, mandare dentro aria secca. Il cavo viene completamente sigillato e poi da alcuni punti gli si ingetta dentro continuamente aria secca e l'aria secca quello che fa porta via tutta l'umidità e quindi si creano delle condizioni ambientali per cui la corrosione non si propaga, non si sviluppa. più. Però questo richiede un sacco di soldi. E nei cavi nuovi è un sistema efficace, ma nei cavi vecchi se ho avuto un cavo che è stato riempito con migliaia di galloni di olio di lino, olio di semi di lino, durante l'inverno si raffredda, durante l'estate si riscalda, quest'olio alla fine diventa come una pasta, come miele, come melassa. E quindi questo impedisce il passaggio dell'aria uniformemente in tutta la sezione. Per cui ci sono problemi che ancora non sono stati capiti bene come affrontarli, che è per circa la dehumidification. Quindi da questa introduzione adesso vi passo a parlare di quelle che sono, invece mi riferirò un attimo alla tecnologia, perché questa è una biennale della tecnologia, su quello che si fa adesso per monitorare questi cavi. Allora vi do adesso un'idea di come questi cavi sono fatti. Io mi focalizzo oggi su questi cavi qui, quelli che si chiamano cavi principali, sui main cables. Questa è la fotografia del ponte Akashikakyo che fino a due mesi fa era il ponte più lungo del mondo. La distanza tra questa torre e questa torre era 1991 metri, è 1991 metri, anzi originariamente era 1990 metri. Poi ci fu il terremoto di Kobe, quando i cavi erano già stati messi in posizione e queste torri si sono spostate di un metro e sono rimaste distanti di un metro. Quindi la distanza è 1991 metri. Il nuovo ponte sui Tardanelli adesso lo batte di una trentina di metri, mi sembra che sia leggermente superiore ai due chilometri il ponte sui Tardanelli. Quando avrete Messina spaccherete, li spaccherete, 3.000 metri di luce libera, quindi andrà benissimo. Voi ingegneri dovrete essere, non sarà il mio tempo sicuramente, ma voi sicuramente lo progetterete. Quindi mi focalizzo su questi main cables. Se faccio una sezione, se taglio questo cavo ad un certo punto, la sezione è un metro e 10 di diametro, quindi è una bestia di questa dimensione. Queste figure esagonali che vedete, queste sono solamente questi fili che sono stati impacchettati in questa maniera, sono 127 fili di 5 mm di diametro che sono impacchettati in questa forma esagonale. Perché? Perché così è più facile metterli ed è più facile poi compattare il tutto, perché già uno li mette e poi li mette, ne mette un altro e poi li mette un altro, quindi è più facile la compattazione. Ma nessuno di, questa è una tecnica nuova, nessuno dei ponti di New York è stato fatto con questa tecnica. Questa si chiamano prefabricated wire strands e questa è l'immagine. Vedete la forma esagonale? Questi sono i caretti che dovrebbero essere, ce ne sono 127 e sono acciaio ad alta resistenza, sono molto più forti dell'acciaio normale. Ma non è che sono, e hanno anche dell'alto contenuto di carbonio, questa è la loro composizione metallurgica, ma sono molto più forti di quello che è un acciaio normale. questo è un diagramma dove qui metto, diciamo, le tensioni o gli sforzi, quello che volete, qui metto le deformazioni. Questo che vedete qui è l'acciaio normale, quello che si usa per le travi, per le colonne, per tutto. Questo invece è l'acciaio che si usa per questi cavi, quindi vedete quanto è molto più forte dell'altro. Questo arriva qui a quasi 1800 megapascal e questo arriva a 400 megapascal, quindi molto molto più forte. E questo è fatto soprattutto, è dovuto al processo di fabbricazione di questi cavi, perché questi cavi si parte da una barra di acciaio di dimensioni abbastanza grandi e poi viene lavorata a freddo, facendola passare attraverso una serie di dadi che ne rimpiccoliscono il diametro. Quello che succede, succede che i cristalli all'interno dell'acciaio si allungano, si compattano, migliora la resistenza ma diminuisce la duttilità. Quello è il problema di questi cavi. Comunque questi cavi erano fatti nei ponti di New York usando, vedete nel tempo come è migliorata la resistenza, dal ponte di Brooklyn che aveva una resistenza di 1080 megapascal alla cassaio che ce l'ha quasi 1800. Perché? Perché nel tempo si sono migliorate le tecniche di lavorazione, gli acciai eccetera eccetera. I ponti di New York sono stati costruiti invece, quasi tutti i ponti negli Stati Uniti e parecchi ponti in Europa sono stati costruiti con un'altra tecnica costruttiva, ossia quella che si chiama aerial spinning, ossia il filo, il filo da 5 mm viene mandato da un cavo, da un ancoraggio all'altro ancoraggio e poi indietro un filo alla volta. Quindi voi pensate un cavo di dimensioni abbastanza grandi a 30.000 fili dentro, 40.000 fili e questo si è dovuto fare almeno 20.000 volte avanti e dietro attraverso il ponte. Il che comporta parecchio tempo, ci vogliono 6-7 mesi per costruire un cavo e questi cavi poi non si possono rimpiazzare. Non è che dite prendo una trave e allora supporto l'edificio con dei supporti temporanei, rimpiazzo la trave e poi via. No, qui se devo rimpiazzare un cavo quello che devo fare è cambiare il ponte perché lo devo fare in esercizio, quindi devo fare o le torri più alte o le torri più grandi. Poi faccio il nuovo cavo e poi trasferisco i carichi del ponte dal vecchio cavo al nuovo cavo e poi tolgo il nuovo cavo. Quindi questo qui era stato fatto in questo modo, con questo sistema di funzionamento. Questa è la ruota che porta il fivo, ecco questa è la ruota, vedete questo qui è il filo di 5 mm che viene portato, qui c'è la matassa del filo con questi pesi servono a far sì che il filo non si ingarbugli, non esca fuori da una matassa, eccetera. Viene portato, se ne porta due praticamente di filo, il primo lo mette e l'altro lo porta con sé e questo ecco incomincia ad andare sul ponte, poi arriva giù a metà del ponte, poi risale sull'altra torre, poi arriva all'altro ancoraggio. A quel punto si ferma, il filo viene fatto passare attraverso quella che si chiama strand shoe in inglese, non so in italiano come si dica, ma all'altro ancoraggio e poi tornando indietro rimette a posto il secondo filo che si era portato. E quindi questo ecco allora ritorna indietro, risale su, riscende giù a mezzeria, risale su, ritorna all'ancoraggio e fanno la stessa cosa, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Quando finisce la matassa si riprende l'altra matassa, il cavo dell'altra matassa si mette vicino, gli si mette una giacca di acciaio, si comprime e poi si ricontinua a fare lo spinning. Tanto l'attrito tra questi cavi impedisce che questo cavo se ne vada per conto suo. E questo appunto fino alla fine, poi alla fine il prodotto finale sono tante bundles come questo, arriva il compactor e lo compatta e ne fa la sezione del cavo che si intende volere, che si intende avere. Questo cavo poi una volta compattato gli si mette questa pasta che adesso è pasta di zinco e questa viene fatta un po' per insulare il tutto, per impermeabilizzare il tutto, ma nel passato era fatta con pasta di piombo, quindi anche questo da un punto di vista ambientale, se questo qui viene pulito e lasciato cadere è un danno ambientale notevole. Comunque una volta messa questa pasta gli si poi mette un filo sempre di acciaio ma di dimensioni molto più piccole e molto soffice, si mette questo filo di acciaio praticamente intorno a matassa e su questo filo poi gli si dà una vernice. Vedete tutti i fili della matassa sono con questi e poi gli si dà questa vernice sopra. Questo in pratica è il primo giorno, però se uno aspetta qualche anno le cose cominciano a peggiorare, ci sono gli effetti ambientali, soprattutto in un ambiente come New York, gli inverni sono molto rigidi, gli estadi sono molto calde, ci sono uccelli dappertutto che lasciano sporcizie dappertutto, la vernice si incomincia a squamare, cadere, quindi la vernice a volte non viene data in maniera perfetta, quindi si formano delle bolle e queste bolle si rompono e queste bolle che si rompono sono punti dove l'acqua entra se piove e l'acqua è sempre sinonimo di corrosione, quindi anche se il ponte è stato fatto in maniera perfetta ci sono sempre delle imperfezioni che favoriscono l'ingresso dell'acqua. Accidentali ovviamente, però uno non può mai dire io faccio il ponte, sono sicuro che questa acqua non mette. Poi a volte succede che il cavo che ho avvolto, con cui ho avvolto si rompe, questo è un cavetto che vedete qui si è rotto per la corrosione e quindi se si rompe quel cavetto qualche giro del filo si allenta e quindi questo è un punto dove entra l'acqua. A volte le manutenzioni non sono delle migliori, anche i contractors americani a volte facciamo le cose così, tanto chi le va a vedere all'ultimo piano, a 100 metri d'altezza, chi le va a vedere? Però ci sono anche questi problemi qui, la manutenzione non è fatta bene. Si fanno le ispezioni, ecco come si fanno le ispezioni adesso. E anzi devo dire, gli Stati Uniti per questo sono all'avanguardia, perché per esempio in Giappone, da quello che io so, ancora non hanno ispezionato un cavo. Quindi il cavo è stato costruito così, loro sono sicuri che va bene, beati loro. Gli americani invece sistematicamente ispezionano questi cavi ogni 5 anni, si prendono dei pannelli e si aprono a random, si aprono questi pannelli, quello che gli si fa gli si mettono delle zeppe e poi si guarda dentro. Ogni 25 anni di solito invece il cavo viene ispezionato tutto il cavo, quindi si fanno dei lavori immensi. Il George Washington Bridge che vi ho detto all'inizio sta proprio adesso facendo questo tipo di ispezioni e questo lavoro gli costa un miliardo di dollari fare l'ispezione del cavo. Però siccome si pagano 16 dollari per passare, ce ne hanno di soldi, quindi non è un problema per loro. Comunque quando si fa questa ispezione, ecco quello che si vede, vedete questo io sto vedendo dentro il cavo, la superficie del cavo è qui e io sto vedendo verso dentro il cavo. Vedete i cavi incominciano a mostrare segni di corrosione, questi sono cavi zincati, però si vede la corrosione soprattutto ovviamente nelle parti più esterne perché sono più soggette ad avere contatto con l'ambiente. A volte si trovano queste situazioni qui, parecchi cavi rotti per la corrosione, completamente inaspettati. Si apre e si trovano, la bellezza di questa slide è che nessuno di questi ponti è a New York. Non vi posso dire dove, ma nessuno di questi ponti è a New York. Comunque ecco, vedete, questo ci sono trovati qui quasi una ventina di cavi rotti, non si sa il perché. Questo hanno aperto, qui hanno trovato tantissimi cavi rotti sulla torre e vedete, forse non si vede bene, ma quanta corrosione c'è qui. Questi sono tutti i cavi che oramai stanno lì, si reggono, ma proprio sono pronti a rompersi. E una volta che prendo il cavo poi, questa è l'immagine di un cavo vero, non è bello lucido come i cavi che vi ho fatto vedere all'inizio della cross section, della sezione, dove il cavo è perfettamente lucido. No, il cavo è pieno di prodotti di corrosione e se tolgo questi prodotti di corrosione, quindi se scarta vetro sopra al cavo, vedete le fratture che ci sono? Ci sono tante fratture che sono soprattutto legate a problemi di corrosione, ma sono iniziate da problemi che noi pensiamo associati al processo di manufacturing, al processo di produzione, perché questi cavi sono fatti in maniera tale che si avvolgono su delle bobbine di un metro di diametro e poi vengono portati in cantiere e facendo questo gli rimangono parecchi sforzi all'interno, quelli che si chiamano residual stresses e poi quando li metto in cantiere questo cavo diventa dritto, ma diventando dritto praticamente faccio uno sforzo dovuto al fatto che lo piego e poi però questo nel progetto non si considera, nel progetto si considera solo il carico che questo porta, quindi il carico che questo porta si deve aggiungere a questi che sono questi sforzi residui e queste fessure, la maggior parte, la grande maggior parte di queste fessure, si sviluppano tutte nel lato concavo del filo. E allora adesso vi parlo di come monitoriamo questi cavi, di come vorremmo monitorare e abbiamo avuto un grosso progetto dall'amministrazione federale per vedere tutte le possibili tecniche di monitoraggio delle condizioni di questi cavi, ci sono vari settori di questo monitoraggio, vi faccio vedere, il più piccolo sensore è il sensore più grande, però ne abbiamo divisi tutti in due categorie, le abbiamo divisi in tecnologie dirette ed indirette, dirette sono quelle tecnologie che ci danno una misurazione reale di quello che è la sezione del cavo che è attiva, che è rimasta, quindi io ho una misurazione del cavo direttamente, mentre quelle indirette sono dei sensori che misurano delle quantità che poi io posso correlare con la corrosione del cavo, per esempio la temperatura, per esempio l'umidità, ecco sapendo che il cavo è in un ambiente con alta umidità, allora posso dire ci sono delle condizioni favorevoli alla corrosione del cavo, quindi sono indirette, allora per quelle indirette, poi queste tecnologie le abbiamo tutte testate su questo cavo qui, questo cavo che abbiamo ricreato in laboratorio, è un cavo scala 1 a 1, quindi è un cavo vero, il diametro è 50 centimetri, ha quasi 8000 cavetti, quasi 8000 fili, è il cavo più grande al mondo costruito in laboratorio, ma anche è il cavo che ha all'interno tutti i sensori che volete, quindi noi su questo cavo qui abbiamo testato queste tecnologie. Allora vi faccio vedere prima questa tecnologia che si chiama Linear, è un sensore prodotto da Annaletom ed è un sensore, è questo, è un piccolissimo sensore, un centimetro per due centimetri di, ma ha uno spessore di qualche micron, il bello di questo è che è flessibile, quindi questo è vantaggioso che apro il cavo quando faccio l'ispezione e glielo metto dentro e poi quando chiudo questo qui si piega con i cavi, non costa niente, adesso costerà una decina di dollari, ma neanche, quindi per un cosa, adesso poi questo era il primo, questo risale al 2000, 2013 mi pare, adesso se ne fanno anche di migliori, molto più accurati, questo cosa fa, il funzionamento di questo sensore è come due pettini in acciaio che però non si toccano e sono collegati ad una batteria che ha un potenziale, differenza di potenziale del millivolt, quindi una batteria bassissima. Se l'ambiente in cui si trova questo sensore è completamente secco, non c'è il trasferimento di cariche da una parte all'altra e quindi io non misuro nessuna corrente, se invece l'ambiente è umido, allora c'è un trasferimento di cariche da un pettine all'altro, si chiude il circuito e io misuro una corrente, in base a questa corrente che misuro posso dire quanto rapidamente si sta deteriorando il sensore e quindi posso dire l'ambiente è aggressivo, non è aggressivo, non c'è niente di corrosione oppure c'è tanta corrosione. Questo è un esempio, vedete, l'abbiamo testato in laboratorio, li mettevamo prima in gruppi di fili messi uno sopra l'altro e poi li mettevamo, alcuni erano sulla superficie, altri non erano in superficie. Qual è il problema di questi sensori comunque? Perché questi poi sono usati su aerei, sono usati su mezzi militari eccetera, ci sono molte applicazioni di questo qui. Il problema è che questi due pettini che vi dicevo non possono essere in contatto con l'acciaio, perché se sono in contatto con l'acciaio si chiude il circuito e quindi mi darebbero dei risultati che non sono quelli che mi aspetto, che non sono quelli veri. E quindi noi li abbiamo dovuti proteggere con, vedete quella retina che c'è lì su? Quella retina è una retina di carbonio, questa retina qui, questa messa sopra protegge i pettini, diciamo, in maniera tale che non c'è questo contatto. Poi li mettevamo nella camera di corrosione e qui è un esempio, ecco, questo è un ciclo dove c'è l'umidità, l'umidità, questo ciclo è questo qui e poi finisce, questo in termini di corrosione. E qui si vedono i vari sensori, le misurazioni che questi vari sensori prendono. Ora si vede all'inizio ci vuole un po' di tempo per l'acqua per penetrare all'interno e poi il più esterno incomincia a misurare qualcosa, questo giallo, e poi gli altri e tutti quanti a un certo punto misurano qualcosa e poi finisce. Questo invece è l'altro, questo è il più grande sensore che abbiamo, la più effetto. Questa è una tecnologia che viene dal Giappone e loro la usano moltissimo per vedere quelle che sono le condizioni di corrosione di cavi, quelli verticali, perché quelli sono piccoli, quelli hanno un diametro dai 3 ai 4 centimetri, quindi va bene usare questa tecnologia, ma un cavo che ha un diametro di 50 centimetri, l'effetto scala è predominante. Quello che questa tecnica fa, questa tecnica attraverso questo solenoide crea un campo magnetico che magnetizza tutto il cavo e poi questo solenoide, quello che viene fatto, viene fatto spostare lentamente. Allora lentamente il campo magnetico si sposta, lentamente c'è quindi un flusso magnetico lungo il cavo, ma il flusso magnetico dipende dall'area del cavo e quindi vedendo come varia il flusso magnetico mentre sposto questo magnete si riesce a decifrare quella che è l'area del cavo. Qual è il problema di questa tecnologia? Questa funziona bene, vi ho detto, per i cavi piccoli perché quando si rompe un cavo, un cavetto, il cavetto, le due parti della frattura, le due facce della frattura si separano di circa 2, 2 centimetri e mezzo, 3. Allora il magnetico ha quelle dimensioni lì che è piccolo, riesce a vedere questo cavo, questo cambiamento di sezione su questi 2-3 centimetri, ma quando parlo a un cavo del genere, per essere sensibile, per misurare queste cose, questo qui dovrebbe avere una sezione, una perdita di sezione di un metro, quindi signifierebbe che questo cavo è ridotto per un metro della stessa quantità, il che è impossibile in realtà, perché in realtà ci avrò magari, anche se ho 100 fili che sono rotti, e magari saranno rotti di 2 centimetri e mezzo la separazione, magari 10 saranno rotti qui giù, 3 saranno rotti qui su, 5 saranno rotti di là, non lo riesco ad avere una cosa uniforme di un metro, per cui non misura nulla, però noi abbiamo fatto dei test invece per vedere quanto fosse sensibile al fatto che se mettessi dei fili lunghi su tutta la superficie e li togliessi uno alla volta, quindi adesso la sezione viene persa per tutto il metro, questo riesce a misurare 15, che mancano 15 cavi su 8 mila, quindi ha una sensibilità incredibile, però non è adatta al nostro problema, quindi ne abbiamo testate tantissime di queste qui e poi ci sono anche problemi di questa tecnologia, realizzativi, perché questo qui deve essere costruito a 200 metri d'altezza, questo solenoide deve muoversi a 200 metri d'altezza molto lentamente, perché ancora siamo anni luce lontano da questo. E poi appunto hanno il problema della resolution, delle misurazioni che fanno. Comunque tutte queste tecnologie poi le abbiamo messe nel cavo, che vi dicevo che l'ho fatto qui, a distribuzione di tutti i sensori e poi le abbiamo in questa camera ambientale che le abbiamo costruite intorno, le abbiamo assoggettate a considerazioni di pioggia, a ambienti tipo pioggia, ambienti ciclichi, quindi c'era pioggia, sole, aria condizionata, eccetera, e questo è un video di quello che facciamo. Ecco, questo era il chamber e qui c'è, qui ci siamo noi, e questo è un tecnico che sta scegliendo il ciclo da fare, quindi facevamo cicli che erano della durata di quattro ore. Vedete la pioggia, questa è la fase di pioggia, quindi qui misuravamo l'umidità, come cambiava l'umidità, poi adesso c'è la fase invece di riscaldamento del cavo, quindi rappresenta un po' l'estate, diciamo, quando c'è il sole e potevamo scegliere le varie zone del cavo, questo lo vedete, tutto il cavo era illuminato, tutto il cavo era illuminato, oppure si spegneva e quindi avevamo fatto tante analisi di questo tipo, questo è un esempio delle misurazioni che leggevamo, vedete questi sono i sensori che misurano la temperatura, allora prima sono tutti quanti alla stessa temperatura, poi iniziamo il test, e il test consiste, prima c'è una fase in cui c'è la pioggia e quindi il cavo si raffredda, poi si interrompe la pioggia e si innalza la temperatura, si accendono le lampade, poi a un certo punto prima si accendevano solo le lampade, poi c'era una fase dove le lampade rimanevano accese ma c'era un sistema di raffreddamento ad aria e poi si spegnevano le lampade e si rincominciava la pioggia e quindi vedete queste sono tutte le misurazioni che facevamo e questo per il sensore più esterno, quindi ci aspettavamo che quello che fosse più esterno fosse quello che dava più sbalzamenti, che fosse più sensibile all'apparizione di temperatura, quello più interno un po' meno, ancora più interno un po' meno, questo era al centro, vedete al centro praticamente i cicli non è che li vede bene ma c'è un aumento costante della temperatura all'interno e poi abbiamo fatto tantissime di queste cose, questo adesso invece vi faccio vedere una cosa unica, una primizia che solamente noi abbiamo, vi faccio vedere una foto all'interno del cavo perché avevamo organizzato un punto dove c'era mezzo centimetro di, avevamo lasciato un tubicino con mezzo centimetro di diametro per vedere all'interno del cavo cosa succedesse e queste sono due immagini del cavo relativamente nuovo, vedete ci sono ancora gli spazi, questo è un sensore tra i fili, questo è all'interno proprio nel cuore del cavo e poi invece dopo tanto tempo, vedete c'è entrato tanto sale, vedete quanto sale, è tutto calcare questo qui, calcare e zinco che si è corroso e poi vi faccio vedere il video all'interno, questa è la testa di un sensore, di uno dei sensori e vedete qui ci muoviamo all'interno del cavo, quindi piano piano vediamo quelle che sono le condizioni dei filetti all'interno di questo cavo qui, cose che ci siamo divertiti parecchio. Un altro modo di monitorare le strutture non proprio come adatto per questo tipo di strutture, invece vedere quello che sta succedendo qui, misurare il comportamento dinamico, misurare quello che è il comportamento dinamico della struttura, questa è un'altra area di ricerca che noi facciamo insieme ai colleghi del Politecnico di Torino, il professor Ceravolo e il suo gruppo di ricerca e questo spero che la prossima biannale il Politecnico mi inviti ancora e vi parlo di questo, che questo è interessantissimo, facciamo delle tecniche di machine learning che sono veramente molto interessanti, però questo è tutto un'altra cosa, per questo cavo invece queste misurazioni dinamiche non sono molto accurate, perché il cavo è talmente tanto grande che per vedere dei cambiamenti di frequenze dovute alla corrosione il cavo deve essere praticamente quasi andato. L'abbiamo fatto poi nel cavo vero, queste sono tecniche generali che possiamo applicare in qualsiasi cavo, in qualsiasi ponte, in qualunque parte del mondo, questa invece è l'applicazione a New York, abbiamo preso un cavo del Manhattan Bridge, abbiamo sfrutturato il rivestimento, l'abbiamo aperto, gli abbiamo preparato una serie di sensori, questo è la temperatura, questo è quello che vi ho fatto vedere, il LPR, questi sono altri sensori, questi molto cari, 800 dollari a sensore, non funzionano, non li comprate, quest'altro funziona, poi l'abbiamo inserito dentro e poi l'abbiamo chiuso, quindi quando è chiuso non si vede nulla praticamente. E abbiamo registrato il comportamento, queste sono tipiche registrazioni di temperatura, questa è in linea continua, questa è la temperatura estiva, questa è di una giornata, mezzanotte, si raffredda durante la notte, poi si riscalda durante il giorno e poi continua a scendere il ritorno alla notte, questo in agosto, questo a marzo e questo a gennaio, questi sono gradi Fahrenheit, 20 gradi non significa 20 gradi centilardi, ma significa sotto zero. E quindi ne abbiamo fatte tante di queste misurazioni qui, un'altra, a questi sensori, un giorno si decisero che tutti quanti misuravano delle registrazioni, allora che misuravano una certa attività, mostravamo che c'era una certa attività, andammo sul ponte e trovammo che qui il contratto aveva messo questa rope di acciaio e aveva rotto la protezione, aveva rotto la protezione per cui aveva piovuto, l'acqua era entrata e noi avevamo avuto queste misurazioni come un segnale di avvertimento, quindi questo qui funziona. Qual è adesso la tecnica nuova che vi dicevo? È quella di mandare aria, di mandare aria secca all'interno del cavo, il cavo è perfettamente sigillato e quindi quest'aria porta via l'umidità e poi fa sì che l'umidità non rientri. Allora, questa è stata sperimentata moltissimo in Giappone, in Europa, in Svezia, adesso sta prendendo piede anche negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti secondo me abbiamo questo problema dei cavi vecchi, che quindi non sono sicuro se funzioni o meno. Per un cavo nuovo funziona, mi piace, ha potenziale, per un cavo vecchio ho i miei dubbi che funzioni. Però questo qui allora abbiamo fatto, siccome avevamo il cavo che era monitorato tutto all'interno con sensori, l'abbiamo sperimentato anche noi, quindi abbiamo sigillato il cavo e abbiamo creato dei portali dove inserire l'aria. E poi abbiamo fatto questo esperimento dove abbiamo, ne abbiamo fatti tanti, adesso ne faccio vedere uno, nel quale da queste sezioni, uno che è questa sezione qui, due e tre, il cavo è completamente all'inizio è quasi riempito d'acqua. Gli abbiamo mandato dentro tanta acqua, il cavo era proprio impregnato di acqua. E poi, piano piano, abbiamo cominciato a mandare dentro l'aria secca e vedete come questo cavo si secca praticamente, si disidrata. Si inizia dalla sezione 1, dopo un minuto, vedete, dopo tre minuti la sezione 1 si sta seccando, piano piano, l'umidità diventa sempre più bassa. Poi c'è la sezione 2, ovviamente, come rispettato, e poi c'è la sezione 3. E dopo 150 minuti il cavo è praticamente dry. E quindi il livello dell'umidità è al di sotto del 40%, e questa è un po' la threshold che viene considerata pericolosa, e rimane dry. Un'ultima cosa, ho finito, questa è una cosa che invece stiamo studiando anche adesso, perché abbiamo il cavo, ce l'avevamo, adesso non ce l'abbiamo più, che era tutto strumentato all'interno, quindi potevamo fare un sacco di esperimenti che volevamo. E abbiamo visto il problema del fuoco. Il problema del fuoco, secondo me, è sottoestimato perché ha degli effetti molto, molto rilevanti. A parte che abbiamo scoperto che è molto più frequente avere degli incidenti con il fuoco di quello che ci aspettavamo all'inizio. Ce ne sono tanti gli incidenti con il relativo fuoco. E poi, a volte avvengono per ragioni più strane possibili. Uno di questi l'abbiamo scoperto che è successo, sapete perché? Perché è scoppiato un autobotte. Ma sapete cosa portava questa autobotte? Polvere d'aglio. Polvere d'aglio. Dentro si erano formati dei gas. Questa autobotte è esplosa ed era proprio sotto un tirante e per fortuna il cavo era più in alto. Però cose quindi che uno non si aspetta. Uno si aspetta l'autobotte che porta il gasolio o qualcosa. Invece ci sono anche questi casi qui, questi eventi. Ci sono eventi di persone che, come questo caso, questo è un triste caso, una persona che si è suicidata, è andata sul ponte di intenzione, il punto più basso, ha dato fuoco alla macchina e si è buttato. Quindi ci sono tanti casi che sono molto più frequenti di quello che noi ci aspettiamo. E questo è un incendio. Oppure ci sono i casi del wildfire. Questo in California. Quindi questo ponte, per esempio, ha i cavi che sono stati soggetti a intenso calore per ore, non minuti. Ore. I pompieri a New York dicono che loro riescono a intervenire su un ponte nella durata di sette minuti. A parte che lo devo vedere. Ma la cosa è che sette minuti possono avere degli effetti sui cavi. E allora noi, avendo il cavo a disposizione, che facciamo? Abbiamo simulato. Abbiamo riempito il cavo di sensori e abbiamo costruito quello che è un tipo forno. Queste sono due sliding parti di questa camera che hanno dei generatori di calore qui e qui in basso. E abbiamo sottoposto, abbiamo acceso questo fuoco all'interno e abbiamo misurato tutto. Siccome abbiamo tanti sensori dentro che possiamo misurare, l'abbiamo fatto. E questo è un esempio di misurazioni. Questa è la sezione del cavo. Queste sono le temperature. Vedete? Questo era un test che abbiamo fatto. Vedete le temperature come salgono? Questi sono gradi centigradi adesso. Quindi all'interno si riusciva ad avere, all'esterno si riusciva ad avere, si arriva fino a 400 e passa, poi non potevamo più. Però mentre all'inizio c'è una grossissima differenza tra i sensori all'esterno e i sensori all'interno, piano piano adesso si sta riscaldando tutto. E questo parliamo di ore, 26 ore, 27 ore, così. Poi adesso questo filo è arrivato, mi pare, a 36 ore. A un certo punto abbiamo deciso di raffreddarlo. E quando si raffredda, vedete come scende adesso la temperatura? Questo è sugli esterni, questo è sugli esterni, adesso è più freddo dell'interno. Però ci vuole tanto tempo. Quindi non è che anche se arrivano i pompieri e raffreddano il cavo sull'esterno, il cavo abbassa la temperatura dappertutto. No, c'è una certa inerzia termica per cui questo cavo all'interno continua ad essere riscaldato e questa è la mia ultima slide. Vedete quelle curve che vi avevo fatto vedere all'inizio? Con la temperatura scendono. Questo giusto per avere esposto il cavo a due minuti di incendio, questo invece avendo esposto il filo a 12 minuti di alta temperatura e poi raffreddati. Quindi tempi relativamente brevi. Però per tempi relativamente brevi, se arriva a temperature di 700-800 gradi, vedete quanto perdo in termini di resistenza. Quindi la resistenza è importante, è un problema che purtroppo è sottostimato, ma secondo me ha dei valori, delle considerazioni da fare. In conclusione, i punti sospesi, dovunque li vediate, sono delle strutture iconiche che giocano un ruolo essenziale nell'infrastruttura. Bisogna, noi dobbiamo, ma vogliamo prenderci cura di loro. Il monitoraggio può produrre, adesso questa è l'idea del monitoraggio, può produrre tanti vantaggi, anche questo tipo di monitoraggio produce tanti vantaggi, perché sono sempre informazioni che vengono a disposizione dell'ingegnere e l'ingegnere può decidere, ha delle informazioni in più da valutare e quindi possono portare a delle considerazioni migliori, in termini di manutenzione, in termini di costi, se non è necessario. Il monitoraggio può dirci, il ponte sta bene, non dovete fare nulla. Oppure il monitoraggio può dire, no, no, intervenite su quel ponte, ma non su quell'altro, intervenite sul George Washington, ma non sul Brooklyn. È importante fare periodic scanning. Pensate a queste cose del monitoring, pensate, io faccio sempre il rapporto con la salute, voi andate dal dottore per farvi controllare, quando siete giovani ci andate una volta ogni dieci anni, ma poi quando raggiungete una certa età ci andate ogni anno. E lì quello che voi volete vedere, volete vedere che il dottore vi dica non c'è niente di strano, continua, è così quello che vogliamo noi nei ponti, monitorare e dirci non c'è niente di strano, continua tutti i giorni. A volte questo è difficile farlo capire agli amministratori comunque. e bisogna usare dei sensori che sono validati, nel senso che sono testati in laboratorio e poi messi in, quindi non prendete il primo sensore che vi passa per le mani. Questa della deumidificazione è importante, può essere effettiva, per i cavi nuovi sicuramente lo è, per i cavi vecchi bisognerebbe studiarli un po' meglio. E poi c'è questa tecnologia, questo technology transfer, non ci focalizziamo solo sulle cose che sono state fatte nel nostro campo, ma guardiamo anche ad altri settori, il settore aeronautico, il settore aerospaziale per esempio. Questi sensori qui non erano stati mai applicati nel settore civile, e ci abbiamo provato. E con questo concludo la mia presentazione e vorrei ringraziare tutti gli studenti che hanno lavorato con me su questo progetto e poi gli ingegneri da varie compagnie, di Abkazem, da Parsons, Richard Gustadas e Marcos Carlos Frommestras, gli sponsor, che sono quelli che pagano i conti poi, l'FCWA con Gasemi e Birmani, e poi le varie autorità di New York, New York City, Department of Transportation, Dr. Yanef, Dr. Pascova, Metropolitan Transportation Authority, e Mr. Weber, Porto Autorio di New York e New Jersey. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che vi sia piaciuta, spero che sia stata interessante, se avete delle domande sono qui per rispondere. Grazie. Professor Bellino, che piacere vederla. Sì, è stato un piacere venire a sentirti, perché è stata un'esposizione veramente eccezionale, per tante ragioni. La ragione principale è che noi in Italia stiamo affrontando questo problema della corrosione dei cavi in questo momento, e voi sapete che noi abbiamo una retratezza nella conoscenza del fenomeno della corrosione che sta praticamente destrutturando un po' i nostri viadotti, in quanto per tanti anni abbiamo pensato a costruire solo nuove opere e a non fare manutenzione di quelle vecchie. Per tante ragioni, soprattutto per ragioni politiche, perché noi ingegneri sapevamo che le strutture erano in deficienza. Ma questo non soltanto per i ponti, diciamo per tutte le altre strutture. Ma restiamo nell'ambito dei ponti, perché? Perché il professor ha messo a punto un aspetto particolarmente significativo, e cioè che i ponti possono crollare per la presenza d'acqua nei cavi sostanzialmente, perché si porta poi dietro l'ossigeno e dove c'è l'ossigeno si va la corrosione. Il punto significativo è che loro hanno tanti soldi per fare queste prove con i sensori. Noi stiamo iniziando adesso a costruire nei nuovi impalcati, diciamo, ponti con gli elementi che contengono i sensori. Ma tutta la parte vecchia, la parte esistente, purtroppo deve essere monitorata a posteriore. E ci sono notevoli difficoltà nel conoscere nelle varie sezioni il livello di corrosione dei cavi. Perché il professor ha toccato degli aspetti veramente importanti per quanto riguarda appunto la impossibilità di non permettere all'acqua, meno che mai all'umidità, di entrare all'interno della sezione del nostro cavo che contiene, diciamo, tante irregolarità, perché se non si compattono bene i fili, voi pensate a un cavo da precompresso, non so, Trefoli, che contengono, cioè un cavo che contiene 12 Trefoli, questi 12 Trefoli non sono perfettamente aderenti, quindi lasciano dei vuoti, delle cavità. In quelle cavità, se entra l'acqua, ovviamente il cavo, nel tempo, è compromesso. E non sappiamo in quale sezione. Ed è difficile andare a posteriore a capire dove è entrata l'acqua e quale è la sezione che è stata compromessa. Adesso si sta, ovviamente, intervenendo con la precompressione esterna, con tanti sistemi, diciamo, per cercare di conservare, fin tanto che si può, la sezione, perché non si possono debolire questi ponti, perché le nostre infrastrutture le dovremmo debolire tutte. In questo particolare momento, da noi in Italia, non vogliono più usare i cavi precompresi, i ponti con i cavi precompresi. Siamo arrivati a questo assurdo, perché è talmente l'opinione pubblica terrorizzata dalla presenza della corrosione dei cavi, dei nostri ponti esistenzi, che per i nuovi si tende a passare direttamente su strutture metalliche. Abbiamo strutture metalliche, consoletta, collaboranti, eccetera, perché andare all'ANAS, a questi enti, e proporre dei cavi da precomprimere, dopo quello che abbiamo purtroppo verificato a posteriore, c'è del terrore e quindi si sta optando per soluzione del decisamento alternativo. Loro hanno questi mezzi potenti per poter intervenire e in qualche maniera intervenire in una maniera intelligente e salvare anche perché hanno tanti soldi, hanno tanti mezzi, eccetera. Quindi, concludendo, non voglio dilungarmi perché ci sarebbero da fare lezioni su tutti questi argomenti. Ciascun argomento che ha toccato il professore va approfondito, va conosciuto in profondità proprio perché il futuro è questo. Grazie comunque. è un piacere, è un piacere. il professor Bene. Bene, io ti ringrazio perché la tua lezione dimostra come l'ingegneria raccontata può essere entusiasmante. Io ti avrei ascoltato per un'altra ora, quindi la peggior cosa che ho fatto a me all'uditorio è di fare quel gesto dei cinque minuti che ti ha portato in conclusione e me ne scuso. Ci sono altre domande dalla sala? Ok. Quella parola che hai usato iconica è bellissima per noi architetti la prima delle tue conclusioni. Quando noi abbiamo nessuno ha detto Ponte Morandi tu hai fatto un accenno ma probabilmente ti riferivi a quello che quindi ero un po' il morto in casa no? Nella l'avete pensato tutti. E io non l'ho menzionato perché sapevo quello che sta succedendo è come vediamo noi da architetti il discorso che tu hai fatto è che il commento tra noi era avevamo un ponte abbiamo un viadotto quindi il mio collega Renzo Piano perché il disegno del ponte è stato fatto un po' spregiudicatamente ha messo un sacco di pile su queste pile ha fatto un impalcato vabbè come dire a Roma che c'è hai ridotto un problema della scala dei chilometri l'hai ridotto alla scala delle decine di metri e perfino un architetto che non è a molto a suo agio con i numeri si ricorda che i momenti viaggiano con leggi quadratiche quindi se tu passi da mille a dieci non è che hai ridotto il problema di cento volte l'hai ridotto qui poi io mi perdo il calco non ve lo faccio ma l'avete fatto tutti nella vostra testa questo è un tema fondamentale ci sono due cose molto belle in quello che tu hai raccontato il rischio che in queste cose vada perduta questa capacità dell'ingegneria di riuscire a raccontare e a ottenere la fiducia per interpretare delle grandi sfide e che si perdano anche delle occasioni tecnologiche di Ponte Morandi è stata una grande occasione di sviluppo industriale per questo paese e peraltro il buon Morandi se ricordo bene avendo essendo un po' appassionato scrive già qualche anno dopo ma fate sta manutenzione ma state facendo la manutenzione e lo sappiamo tutti che se non facciamo la manutenzione la domanda è nel viadotto quando è stato raccontato il viadotto e non ponte mi spiace perché un architetto ha trasformato un ponte in un viadotto è stato molto insistito sul tema del digital twinning quindi è stato detto questo è il primo bridge in Italia che ha embedded un digital twin quindi e io ho letto queste cose da una parte a me appassiona molto il tema lo sanno i colleghi del digital twinning e l'ho letto con mixed feelings dicendo non è che questo digital twinning serve a dimenticarci che c'è un twin reale e se si rompe è il twin reale come vedi questo tema del digital twinning in questa cura del manufatto su cui hai lavorato così tanto beh non so come come rapportarlo a questo a questo tema a questa tematica avere un digital twinning di un cavo non è una cosa semplicissima assolutamente e non credo che sia neanche possibile io quello che penso è avere un digital twinning di quel modello di un edificio di un ponte di un viadotto allora questo però significa creare un modello che poi questo modello viene sempre validato da dati che vengono collezionati dal vero ponte e è questo che noi lavoriamo col professor Ceravo con il suo gruppo è trovare comunque modi per far per validare questo digital twinning con i dati se uno non 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 colleziona i dati il digital twinning a un certo punto smette di funzionare perché io posso posso avere un modello che funziona fino a un certo periodo e poi questo digital twinning se non lo se non lo update continuamente e allora mi può si può fermare praticamente l'immagine che mi dà a quella del momento che ho fermato quindi senza monitoring non ha più valore il digital twinning quindi io sono per il digital twinning per le cose che si possono fare però deve essere supportato secondo me la cosa importante è il monitoraggio quello lì avere collezionare questi dati che poi vengono processati e il digital twinning viene updated dietro quello che hai detto c'è una cosa che unisce profondamente il modo in cui sta cambiando la missione dell'ingegneria e dell'architettura rispetto alla società e al mondo in cui viviamo lo dico per chi non è non è non è specialista l'ingegneria dei nostri bisnonni e nonni come l'architettura dei nostri bisnonni e nonni era fatta nel produrre nuovi oggetti che dovevano costruire un mondo nuovo e probabilmente la nostra la mia generazione la nostra generazione è di transito verso quello che sarà un tema invece di prendersi cura del mondo esistente e tu ci hai dimostrato quanto entusiasmante può essere la sfida di prendersi cura del ponte da Verrazzaro di prendersi cura del monte di Brooklyn questa è una parola che manda che rinvia a un approccio all'architettura e all'ingegneria completamente diverso quando ero nei banchi non si parlava di architettura del riuso e significa basta un dato per spiegarvelo guardate la demografia guardate la demografia il mondo perché ha costruito quei ponti era un mondo con un tasso di natalità che era molto più forte del nostro e di conseguenza aveva bisogno di nutrire costruire organizzare muovere spostare noi stiamo riducendo la taglia delle cose di cui abbiamo bisogno per fortuna perché spostiamo più dati spostiamo meno oggetti e stiamo dovendo confrontarci con invece il curare anche perché lei ha accennato alcuni di questi oggetti proprio perché iconici sono anche diventati heritage quindi se qualcuno oggi dicesse scusate ma sostituiamo il ponte di Brooklyn con un viadotto è più semplice diciamo l'EPI a parte che c'è qualche problema di profondità di cosmo ma lo dico come è e dici no ma that's heritage non si può fare questa cosa quindi grazie perché ci hai riportato al fatto che diventa però una sfida più complessa e infatti l'ultima parola che è il posto è multidisciplinare e sono molto contento di vedere apparire questi questi loghi che sono quelli dei lavoratori con cui il nostro Politecnico si sta attrezzando e si attrezza per cogliere le sfide interdisciplinari poi parlato di aeronautica poi si potrebbe fare un'altra mattinata parlando dei rapporti tra ponti urbanistiche e geografia guardate soltanto online come l'Uragano Sandy ha modificato i profili costali proprio in New Jersey e come Manhattan che è un oggetto misto naturale o artificiale che cosa sta facendo Manhattan per ritornare ad avere un bordo molle soffice e non un bordo duro che è un'altra parte di questa storia bellissima che ci ha raccontato Raimondo grazie un piacere un piacere un piacere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti